Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In A12 controllo della velocità attivo tra Colle Salvetti e la barriera di Rosignano Marittimo in direzione Rosignano. In A15 l'area di servizio di San Benedetto in direzione La Spezia è sprovvista di GPL. In A1 da domani sera a giovedì mattina in orario 22.06 sarà chiusa per lavori l'entrata ad Arezzo in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia dalle 8 di martedì 21 senso unico alternato per lavori al chilometro 325-800 tra Stagno e l'incrocio Pisa-Marina di Pisa. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!